Ha terminato ieri il suo cammino terreno padre Osvaldo Carrabs, sacerdote cappuccino. Aveva compiuto 84 anni e a settembre scorso aveva festeggiato il sessantesimo anniversario di sacerdozio. Essendo deceduto per le conseguenze dell'infezione da coronavirus, non è stato possibile l'ordinario funerale. I suoi confratelli, risparmiati dall'epidemia, nel primo pomeriggio lo hanno accompagnato al cimitero per la tumulazione. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Preghiamo. Esaudisci con bontà, Signore, le preghiere che umilmente ti rivolgiamo per l'anima del tuo servo, Padre Osvaldo, sacerdote, che nel tuo nome ha fedelmente esercitato il ministero, possa egli ora alietarsi in eterno nella comunione dei Santi. Per Cristo nostro Signore. Andiamo con gioia incontro al Signore. Andiamo con gioia incontro al Signore. Quale gioia quando mi dissero, andremo alla casa del Signore. Già sono fermi i nostri piedi alle tue porte, Gerusalemme. Andiamo con gioia incontro al Signore. Alleluia. 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 Il Signore sia con voi. E con il tuo Spirito. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, o Signore. In quel tempo Gesù disse Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti, e le hai rivelati ai piccoli. Sì, oh Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio. Nessuno conosce il Figlio se non il Padre. E nessuno conosce il Padre se non il Figlio, e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo. Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il mio gioco sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore. E troverete ristoro per la vostra vita. Il mio gioco, infatti, è dolce e il mio peso leggero. Parola del Signore. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. O Dio, Creatore e Redentore di tutti i fedeli, concedi alle anime dei tuoi servi la remissione di ogni colpa, perché ottengano le nostre preghiere e il perdono che hanno sempre desiderato. Per Cristo nostro Signore. Amen. Stiamo per compiere il rito cristiano della sepoltura. Vogliamo affidare alla terra il corpo mortale del nostro caro fratello Osvaldo. Supplichiamo con fede Dio nostro Padre, nel quale ogni essere vive, perché lo risusciti, e accolga la sua anima nella comunione dei Santi e di coloro che lo hanno fedelmente servito. Nel giudizio Dio gli apra le braccia della sua misericordia. Perché, redento dalla morte e assolto da ogni colpa, riconciliato con il Padre e recato sulle spalle dal Buon Pastore, il nostro fratello Osvaldo partecipi con l'Eterno Re alla gloria perenne e goda della compagnia dei Santi. Grazie. Venite, Santi di Dio, accorrete angeli del Signore. Accogliete la sua anima e presentatela al trono dell'Altissimo. Ti accolga Cristo che ti ha chiamato e gli angeli ti conducano con Abramo in Paradiso. Accogliete la sua anima e presentatela al trono dell'Altissimo. L'Eterno riposo dona a Lui, Signore, e splenda per Lui la perpetua luce. Accogliete la sua anima e presentatela al trono dell'Altissimo. Nelle Tue mani, Padre Clementissimo, consegniamo l'anima del nostro caro fratello Osvaldo, confortati dalla sicura speranza che insieme a tutti i defunti in Cristo con Lui risorgerà nell'ultimo giorno. Ti rendiamo grazie, Signore, per tutti i benefici che hai donato al Tuo servo in questa vita, segno della Tua bontà verso di noi e della comunione dei Santi in Cristo. Nella Tua misericordia senza limiti, ascolta, Signore, le nostre preghiere. Aprigli le porte del Paradiso e a noi che restiamo qua giù dona di consolarci a vicenda con le parole della fede, fino al giorno in cui saremo tutti riuniti in Cristo e potremo così vivere sempre con Te e con il nostro fratello. Per Cristo nostro Signore. Per Padre Osvaldo sarà celebrata la Messa Vespertina di questa sera, presieduta a nome del Ministro Provinciale da Fra Pasquale Cianci, consigliere provinciale della provincia religiosa di Sant'Angelo e Padre Pio dei Frati Minori Cappuccini.